Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi parleremo di uno dei fenomeni più affascinanti presenti in natura, l'aurora boreale. L'aurora boreale, o luci del nord, è un fenomeno di luce naturale che si verifica nelle regioni polari. Questo magico spettacolo pittura il cielo di colori vivaci, creando un'atmosfera da sogno. Sapevi che l'aurora boreale è causata dalle particelle solari? Quando queste particelle collidono con l'atmosfera terrestre, generano una luce che risplende nel cielo notturno, creando l'aurora. Le luci dell'aurora possono variare in colore, da verdi a rosa, a viola e blu. Queste sfumature dipendono dal tipo di gas nell'atmosfera terrestre con cui le particelle solari collidono. Se stai pensando di fare un viaggio per vedere l'aurora boreale, ci sono alcuni luoghi e periodi dell'anno che dovresti considerare. Vediamo insieme quali sono. La Norvegia, in particolare Troms, è una delle migliori destinazioni per vedere l'aurora boreale. Il fenomeno è visibile qui da settembre a marzo, con il picco tra ottobre e febbraio. Un'altra ottima destinazione è l'Islanda. L'aurora boreale si può vedere qui da settembre a aprile, con il picco tra settembre e marzo. Assicurati di allontanarti dalle luci della città per avere la migliore vista. In Canada, lo Yukon è un luogo ideale per vedere l'aurora boreale. Qui, il fenomeno è visibile da agosto ad aprile, con il picco tra dicembre e marzo. La Finlandia, in particolare la Lapponia, è un'altra destinazione popolare per vedere l'aurora boreale. Qui, il fenomeno è visibile da settembre ad aprile, con il picco tra dicembre e febbraio. Ricorda, però, che l'aurora boreale è un fenomeno naturale, quindi il suo accadimento non può essere del tutto garantito. Ma con un po' di pianificazione e fortuna, potresti essere in grado di vedere questo incredibile spettacolo di luce. Ecco quindi un breve riassunto. L'aurora boreale è un fenomeno di luce naturale che si verifica nelle regioni polari. Puoi vedere l'aurora boreale in Norvegia, Islanda, Canada e Finlandia durante i mesi invernali. Speriamo che queste informazioni ti aiutino a pianificare il tuo viaggio per vedere l'aurora boreale. Non dimenticare di portare con te almeno una macchina fotografica per catturare questo incredibile fenomeno naturale. Grazie per averci seguito. Vi auguriamo di riuscire a vivere questa esperienza davvero unica e magari di condividere con noi le vostre emozioni. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per averci seguito.